Ha regalato oltre 200 opere a 6 musei nel mondo, forte del suo grandissimo sostegno all'arte sudamericana. Tra le istituzioni europee che hanno ricevuto le opere, anche il reina Sofia di Madrid. Lei è Patricia Phelps de Sirneros, nota collezionista venezuelana. Il suo nome non manca di essere inserito tra i 200 collezionisti più importanti del mondo, riportati anche nella lista di Art News. Possiede una raccolta iniziata negli anni 90, che raccoglie nomi di grandi artisti viventi sudamericani, come Federico Erreno e Claudio Perna. Grande mecenate, attenta al benessere degli artisti, perché come lei stessa dice, gli artisti sono i primi a percepire i cambiamenti del mondo.